eccoci qua ragazzi oggi parleremo di compressori quindi andremo a vedere un po' quelli che sono tutti i parametri dei compressori come utilizzare il compressore analizzeremo e nello specifico il compressore di logic quindi andremo a esaminare tutti i vari aspetti tutti i vari parametri tutte le varie simulazioni che il compressore di logic fa di altri compressori che esistono poi realmente quindi diciamo che l'uso del compressore è fondamentale nella produzione musicale oltre anche all'uso ovviamente dell'ecolizzatore però il compressore stabilisce un controllo della dinamica che poi va anche a ripercuotersi su quello che è l'aspetto delle frequenze del suono perché ricordiamoci che il compressore va sì a controllare la dinamica ma cambia anche il timbro proprio del suono cambia proprio anche la struttura vera e propria di quello che è il suono o del master o di qualsiasi altro suono che vogliamo andare a comprimere quindi andiamo subito ad aprire quello che è il compressore e vediamo che il compressore questo qui questa finestra ci si presenta con diversi parametri che andremo ad analizzare innanzitutto qua su in alto vediamo che c'è la simulazione vedete di diverse tipologie di compressori dal focus right al la2a al questo cos'è l'urei 1176 insomma vengono il dbx vengono diciamo che vengono simulate diverse diverse tipologie di compressori e andiamo appunto a parlare di queste tipologie partendo appunto da quello che è il compressore FIETI FET che è un compressore che va a lavorare con dei transistor quindi ha la particolarità di avere un ingresso quindi una capacità molto veloce una reattività alla all'impulso del suono molto veloce molto più veloce dei vecchi compressori valvolari di cui qui adesso non ci sono simulazioni però quindi ha questa particolarità di andare a suonare molto in maniera molto efficace su quello che sono le parti percussive del suono quindi non ha una grande latenza ha un effetto molto immediato quindi sia in attacco che in rilascio possiamo andare a interagire in maniera molto molto veloce e lasciando intatti quelli che sono i transienti del suono che sono tutto perché diciamo che il gioco fondamentale è quello di andare a comprimere un suono senza avvertire in maniera pesante il suono del compressore ma andando a coglierne solamente i benefici un altro tipo di compressore è il compressore ottico o anche opto qui ad esempio vediamo la simulazione di un LA2A che è un famoso compressore ottico che lavora soprattutto viene scelto per le voci per le chitarre acustiche per strumenti molto morbidi perché ha la particolarità di essere particolarmente morbido perché ha una latenza molto alta il compressore ottico lavora utilizzando al proprio interno una lampadina una lampadina non è una lampadina è una fonte di luce alla quale viene collegato l'ingresso del suono questa luce va a interagire con un fotodiodo al quale poi è collegato il circuito di amplificazione di riduzione del suono del compressore diciamo che questo processo questo tipo di costruzione appunto del compressore lo rende più lento rispetto agli altri compressori quindi da una latenza maggiore rendendo questo difetto diciamo in maniera rendendo questo difetto non un difetto ma una caratteristica perché lo rende molto più morbido quindi questa latenza questo release che ha questa apertura che è molto lento lo rende adatto per certi strumenti poi abbiamo il compressore VCA che qui ad esempio abbiamo un focus write che viene simulato da logic il compressore VCA è un compressore che ha un controllo elettronico ancora più veloce del Fiat T quindi diciamo che è ancora più preciso è ancora più aggressivo di quello che è il FET perché appunto controlla in maniera completamente elettronica tutta la circuiteria interna e in effetti è un compressore che ha anni di costruzione più diciamo che è un pochettino più recente rispetto agli altri andiamo poi a vedere quelli che sono i nostri parametri ritorniamo sulla visualizzazione originale di logic qui abbiamo l'input quindi l'ingresso quindi stabilisce questa amplificazione è un gain appunto che va a interagire solamente sull'ingresso del suono la threshold, spieghiamo un attimino come lavora un compressore il compressore stabilita una certa soglia tutto quello che andrà a eccedere questa soglia verrà compressa dal compressore con un aretio quindi con un rapporto di compressione quindi presumibilmente ad esempio abbiamo 10 dB un picco che suona di 10 dB la soglia del compressore la ratio di 2.1 andrà ad abbassarlo a portarlo a 5 dB quindi la retio questa qua vedete la posso aumentare fino a portarla a un massimo in questo caso di 30 a 1 quindi 30 a 1 vuol dire che se ho 30 dB me lo porta a 1 non lo porterà a infinito cioè il retio infinito non è più un compressore ma diventa un limiter oppure un clipper qui in questa parte del compressore di logico anche una sezione riferita al limiter dove posso aprire appunto accedere al limiter dove oltre alla compressione che viene fatta nella fase di compressione qua viene anche aumentata la compressione aggiungendo un limiting quindi una parte ancora più compressa quindi verrà ancora compresso con una retio infinita il suono che cederà questa soglia in questo caso a una soglia differente dalla soglia del compressore rimaniamo su quello che è il compressore quindi diciamo che una volta che viene schiacciata la parte cedente della soglia io cosa troverò? troverò che ho un abbassamento di volume per riportare quel volume di picco alla parte originale al suono originale io andrò a interagire su quello che è il make up cioè il guadagno in questo caso cosa farò? andrò a schiacciare i picchi e aumentare il volume medio del brano quindi se io ho una originariamente ho un suono che ha una differenza così adesso ve lo faccio vedere in maniera molto semplificativa fra il picco e la zona media dove suona il suono la canzone quella che è io abbassando il picco e poi rialzando tutto ho la compensazione questa compensazione mi porta a un innalzamento del volume medio del suono quindi è come se il suono compresso sì è vero che è compresso nella parte di picco ma in realtà è un suono che una volta tratto in guadagno va ad avere più volume quindi un suono compresso ed è per questo che in fase di mastering si usa il compressore massimo che è il clipper o il limiter quindi soprattutto il limiter perché appunto viene aumentato il volume quindi un limiter che lavora a meno 10 dB aumenterà in realtà di 10 dB il suono perché verrà poi ricompensato quello schiacciamento che viene creato il ni è la forma con la quale va a comprimere quindi con la quale va a interagire il compressore cioè nel tempo quanto va a comprimere come va a comprimere verrà stabilito da questo parametro l'attacco è il momento in cui il compressore entra in azione è molto importante perché per avere dei suoni molto naturali io devo utilizzare un attacco piuttosto lento così faccio in modo che se questo ad esempio nel suono della voce è fondamentale o nel suono della chitarra, del rullante dove voglio avere suoni percussivi è molto importante lasciare l'attacco piuttosto lento perché la prima parte del suono che cede la soglia non verrà compressa come poi viene compressa la parte successiva quindi in questo caso sono valori espressi in millisecondi un valore di 50 millisecondi significa che una volta che andrà a superare la soglia ci metterà il compressore 50 millisecondi per iniziare ad abbassare di quanto del ratio quindi del volume, del rapporto di compressione il release invece è quanto tempo ci mette il compressore una volta che il segnale è sceso sotto la soglia a smettere di funzionare quindi per quanto tempo continuerà a comprimere il suono è un valore che viene stabilito dal release vedete questo qua può anche arrivare a 5000 millisecondi che sono 5 secondi quindi con un release di 5 secondi significa che una volta che il suono va al di sotto della soglia ci mette 5 secondi per ristabilire la non compressione quindi continuerà a comprimere per 5 millisecondi quindi questo è molto importante ad esempio nell'effetto broadcast l'effetto tv o radio ha soprattutto dei release molto lenti che fanno sentire molto la compressione del suono quindi più ho release lungo più sentirò l'effetto del compressore più ho release corto più il compressore lo sentirò in maniera super efficace solo quando mi serve quindi sembrerà tendenzialmente anche più naturale un release più corto però dopo lì è da vedere anche in base al suono a quello che si vuole ottenere il rapporto 100-0-1-0-0 la percentuale stabilisce se questa compressione è a compressione totale o in percentuale simula l'effetto di una compressione parallela ne parlerò in un video a parte di quello che sarà appunto la compressione parallela ma diciamo che la compressione parallela è una compressione che avviene come dice la parola parallelamente al suono dry quindi viene aggiunto un suono super compresso della stessa fonte viene aggiunto in una percentuale che viene stabilita qua un 30% di compressione parallela significa che il compressore lavorerà solo al 30% un 100% vuol dire che questo compressore è totalmente dedicato al suono che sta comprimendo un'ultima cosa qui molto importante qui poi abbiamo il gain di uscita che va appunto a stabilire il volume di uscita adesso lo teniamo a zero la distorsione cosa succede attivando questa distorsione questa distorsione va a aumentare l'effetto del transiente che viene mangiato dal compressore come dicevo prima la difficoltà maggiore per chi usa il compressore è quella di lasciare comunque gli attacchi liberi perché il compressore ha il difetto di andare a schiacciare la parte iniziale del suono quindi di sentire quella mancanza di vitalità del suono posso simulare quella sorta di vitalità attraverso l'uso della distorsione questa è una cosa che si fa soprattutto nelle parti percussive o anche nel mastering quando vengono masterizzati i brani spesso si aggiunge distorsione per aggiungere clipping quindi per simulare una sorta di schiaffo che in realtà viene tolta dal compressore stesso quindi io qui posso avere tre diversi tipi di distorsione dalla più morbida soft hard fino al clip vero e proprio il clip non è altro che un limiter a tempo zero quindi invece di entrare un po' alla volta entra subito quindi lo schiaccia la differenza fra un limiter e il clipping appunto è la forma d'onda con la quale lui va a tagliare sopra la soglia quindi il limiter ci mette un tempo quindi è come se lo va a pettinare per così il clipper lo va proprio a segare quindi crea una forma d'onda quadra forma d'onda quadra si sa che è la forma d'onda che crea più armoniche in generale significa in poche parole che crea una distorsione quindi simula una distorsione questa distorsione ci darà l'effetto della come dire del transiente che viene poi mangiato dall'attacco ultima cosa che cos'è un sidechain il sidechain vedete qua io posso far andare il compressore con il sidechain che cosa significa significa che in un compressore posso decidere di comprimere una fonte o con la fonte stessa ad esempio mettiamo la voce io comprimo la voce dalla voce comprimo la voce quindi la soglia verrà stabilito tutto come abbiamo detto adesso oppure posso decidere di comprimere quella voce attraverso un input esterno se in questo input esterno metto una suona della cassa della batteria ad esempio questo compressore viene guidato dalla cassa della batteria lui andrà a comprimere il suono della voce quando avrò il suono della cassa di batteria vi faccio un esempio vi faccio sentire un esempio io ad esempio qua ho questa canzone che abbiamo già sentito anche in altri video ok questa canzone qua adesso tolco il click io ho un compressore su questo master ok e sto comprimendo di quasi 5.1 con questa trash ho detto tutto quanto io voglio decidere a questo punto di comprimere questa canzone con un sidechain con una fonte esterna che può essere ad esempio un click il click lo vado a prendere dal bass dal bass 6 poi vado qua sul click che andiamo a sentire il suono del click è questo scusate metto in solo ok abbassiamo che è molto alto io il click lo metto nel bass 6 ok quindi il bass 6 adesso non lo sento io avrò come risultato e avrò come risultato che il compressore che adesso lo vado a eccolo qua allora il compressore io lo vado a interagire lo vado a prendere dal sidechain l'ingresso vedete va va in va a lavorare sul click quindi non comprime il master sul click quindi anche release sentite così più morbido vedete come è più lento qui posso attaccarlo prima questo effetto si usa spesso anche nella musica elettronica nei brani che si sentono musica dance edm questo è molto utilizzato all'effetto sidechain con un sidechain esterno che il più delle volte è un click che dà il senso anche del ritmo quindi possiamo oppure posso decidere di comprimere le chitarre quando arriva la voce perché io posso anche questo per dare chiarezza ad esempio al mix posso comandare un compressore con una fonte esterna e questo è il sidechain bene anche per oggi è tutto ci vediamo al prossimo appuntamento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti